Per quanto riguarda il sapore? Ok. Ma è italiano, parliamo in italiano. Qui ci sono le fragole, ma come non c'è la centrifuga, lo faccio con le mani. Così diventa solo come un pochino di zucco. Le mani mi danno il sapore? Sì, ma il sapore è meglio. E così dopo facciamo un po' di zucchero, menta, limone e... E' uriaca! E' uriaca! No, devi andare a comprar il whisky, Silvi!